Sì, certo! Mi chiamo Leonard, piacere di conoscerti Wen. Perché sei qui? Forse per fare amicizia con te. Anche con i tuoi. Ma ho il cuore spezzato. Perché è spezzato? Per quello che devo fare oggi. C'è una donna che porta qualcosa. Sembra un piccone con una catena e la testa di una mazzitta. Noi dobbiamo fare un lavoro importante. Potrebbe essere il lavoro più importante della storia del mondo. Siamo stati chiamati. E siamo uniti da una visione comune che è diventata un ordine che non possiamo ignorare. Noi quattro siamo qui per prevenire l'Apocalisse. La vostra famiglia è stata scelta per prendere una decisione orribile. Se fallite nella scelta, il mondo finirà. Grazie. Grazie. Grazie.